Cassa integrazione non solo. C'è tanta incertezza sul futuro dello stabilimento Fiat di Termoli. Diversi mesi trascorsi con il ricorso agli ammortizzatori sociali a scaglioni per tutti i settori, poi gli annunci di un rilancio fattivo attraverso un cospicuo investimento sull'ibrido per il quale da tempo viene programmato un rilancio dello stabilimento con l'adeguamento delle linee produttive. Il tutto da avviare durante la pausa estiva, per il momento però nulla di tutto ciò. Il lingotto è rimandato ad ottobre ma intanto i giorni passano e grosse novità non se ne annunciano. Per questi motivi prima dell'estate i sindacati avevano chiesto più volte un incontro al ministero per le attività produttive, un confronto che si preannuncia serrato ma che non è ancora stato convocato, facendo crescere l'attesa di tutti coloro che ogni giorno varcano i cancelli dell'impianto di rivolta del re. Le maestranze non vedono di buon grado quello che sta accadendo dopo i proclami il nulla che si trascina e inesorabile che preannuncia un nuovo autunno caddo in attesa di grandi novità. Per questo le quattro RSU presenti in fabbrica hanno inteso esprimere il proprio pensiero a seguito di un confronto voluto dopo l'ultima nota di casa Fiat che riduce i turni e distacca la seve e i diversi operai. I rappresentanti di Fimchis, Lugiel, Metalmeccanici e Fismich riferiscono che quanto annunciato evidenzia più che mai il calo dell'unità cambi che fortunatamente viene compensata dalla salita produttiva del motore T4. Questo anche grazie alla varietà che lo stabilimento termolesi riesce ad ottenere. Si aspetta però il motore ibrido. I sindacati si augurano che la produzione del nuovo propulsore possa partire al più presto per garantire sicurezza e tranquillità a tutti i lavoratori, così come già richiesto dal Consiglio di fabbrica. Le RSU chiedono infine la convocazione al più presto da parte dell'azienda proprio per capire i modi e tempi della trasformazione degli impianti più volte annunciata ma ancora rinviata. Grazie a tutti.